Io sono il salutatore e tu sei un grande e ti chiedo un saluto per i fan. Un fan che? I due fan, tutti i tifosi. Tifosi? Grazie, buongiorno. Per la pace, io vi ho portato un regalo, la mania dell'Italia. L'Italia però non vai nel mondiale. No, non vai nel mondiale. Due mondiali a casa. Forza Italia, alla prossima. Grazie, ciao, ciao, salutiamo. A riferci. Ciao, grazie.